Ciao a tutti, il Dilan Dog 459 si intitola Ikikomori, ecco la copertina dei Cestaro che vede Dilan con alle spalle un mostro del quale sapremo molto di più naturalmente leggendo l'albo. Come sappiamo Ikikomori è il termine giapponese che va a descrivere un fenomeno sociale piuttosto preoccupante, quello che confina nel chiuso delle proprie camerette degli adolescenti, dei ragazzi, in genere maschi anche se ci sono casi di Ikikomori femmine, senza mai aver un contatto con l'esterno. Questa cosa si estremizza addirittura escludendo dalle pareti della propria stanza anche i genitori e quindi interroppendo di fatto la vita sociale. tra l'altro è una cosa che a me ha sempre interessato proprio a livello personale perché come dire sento una comprensione, una tenerezza per chi è affetto da questa problematica, non so come chiamarla, insomma penso che sia una patologia, però penso di saperne in qualche modo, di intuirne, non di saperne naturalmente, di intuirne le cause, le cause, il disagio che lo porta. Questo perché sono il primo io a sentire una, a volte spesso un'ansia, un'ansia sociale diciamo che mi porta a così, a non aver sempre voglia di interagire col mondo esterno. Questo probabilmente va a chiamare in causa diversi ambiti anche della mia esistenza, non ultimo il lavoro, ma naturalmente non sono qui per così raccontare gli affari miei. Andiamo a, anche se l'ho appena fatto, ma andiamo a parlare del dell'albo che è scritto da un veterano della serie, Giancarlo Marzano, io insomma è uno che ha scritto tanti albi belli, io ne ho in mente uno particolare che si chiama non umano, che è uno dei, credo che sia collocabile intorno al 370 o giù di lì, comunque ai primi tempi della conduzione Recchioni, poi ne sono venuti anche altri, ma questo torna a un livello piuttosto alto e chiude, o semi chiude, visto che manca ancora l'albo di dicembre, in bellezza questo anno baraldiano. Barbara Baraldi secondo me ha veramente, cioè se il suo obiettivo era riportare Dylan è impossibile i fasti sclaviani, togliamocelo dalla testa, però se il suo obiettivo era riportarlo a un certo mood, a una certa atmosfera, secondo me ci è riuscita, ecco ci è riuscita privilegiando soprattutto l'horror, l'horror proprio quello, se vogliamo, anche più estremo, ecco facendoci anche tornare a quello splatter che magari era possibile vedere con più facilità nel primo Dylan. L'albo inizia tra l'altro con una prima pagina splendida dovuta al disegnatore Armitano che traduce in immagini la storia pensata da Marzano, un'inquadratura potremmo dire di orientamento e io mi sono innamorato di questa vignetta, guardate che bella questa vignetta, con questa unica finestra illuminata che così sembra quasi esplodere in questo palazzo buio e naturalmente una finestra illuminata nella notte ci dice che qualcuno è sveglio e visto che nell'albo ci viene informato da Sophie, la psicanalista che ha in cura Kyle l'ikikomori del titolo, Sophie ci dice che il ritmo del sonno circadiano quasi sempre è ribaltato nell'ikikomori che vive la sua vita di notte attaccato ai social e alle varie device che possono metterlo in contatto con altre persone perché l'isolamento sociale si limita a ciò che evita il contatto fisico ma è presente in termini informatici e poi dormono di giorno praticamente. La notte probabilmente con il suo sospendere il ritmo della vita può anche essere rassicurante per chi ha questo tipo di patologia. Dylan viene avvicinato da due personaggi coniugi Colbert che forse sono all'interno dell'albo i due più personaggi in qualche modo reverenti a un certo stereotipo cioè la madre sensibile e preoccupata dei problemi del figlio, il padre autoritario e tendente a sottovalutare quelle che per lui sono soltanto dei capricci di un ragazzo e questa cosa trovo anche una corrispondenza nella descrizione. La madre è biond'è bella, il padre atletico molto, poi vedremo nel corso dell'albo molto anche vanitoso, vanesio e soprattutto molto nei modi molto molto duro. Ma il punto è che attraverso quelle incontri informatici di cui dicevo prima Kyle e come lui a quanto pare altre ragazze con i suoi stessi problemi, altri chikomori incontrano la terribile creatura che vediamo in copertina che è una creatura tutt'altro che pacifica e semina vittime sul suo cammino. Questo albo fa parte di una trilogia che indaga i mostri, che già inizia con l'albo bis di cui ho parlato poco tempo fa, che indaga i mostri classici, qui il mostro classico penso di poterlo dire senza tema di spoiler perché lo dice la stessa Baraldi nella posta all'inizio è il vampiro, il vampiro che viene declinato secondo un'iconografia ancora diversa. Di vampire ne abbiamo visti tanti sulle pagine di Dylan Dog, a differenza che in dampier hanno sempre caratteristiche diverse. Dicevo è un albo compatto, teso, che tiene la sua storia diciamo in una trama di incertezza fino alla fine e si chiude con quei bei finali sospesi che erano la norma almeno nei primi 100-200 numeri e che lascia molto soddisfatti. Così come lascia molto soddisfatti anche l'aspetto diciamo così di natura morale che sottende all'albo e sottende alle scelte degli kikomori che di volta in volta devono confrontarsi con questo vampiro, con questo mostro, perché voglio lasciarlo scoprire a voi c'è un modo per entrare in contatto col vampiro, un modo che tra l'altro risuona nel titolo di un bellissimo film, di un bellissimo romanzo di cui io poi ho già avuto modo di parlare intersecando il discorso in altri albi e che va questo sì penso di poter dire a intercettare quella che è la leggenda vera e più tradizionale del vampiro che deve essere sostanzialmente invitato dalla persona e quindi c'è come dire è un modo anche che Marzano utilizza per dirci che quest'ansia, questo bisogno di esclusione degli kikomori non esclude mai il desiderio di stabilire un contatto al di là delle paure, al di là dei terrori, del panico e della paura del fallimento che spesso in un mondo molto molto veloce e molto facile diciamo dimenticare il prossimo come il nostro, è facile avere. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.